Sono Antonino Casella, ho 25 anni, sono laureato in ingegneria informatica e ho iniziato il mio percorso in Telecom Italia con l'apprentistato del progetto The Day Before a Caltanissetta nel giugno del 2011. In quel periodo ho iniziato a conoscere le varie strutture dell'azienda e tutte le sue forme sono stato per così dire aziendalizzato. Poi nel gennaio del 2013 ci sono stato assunto e sono entrato a far parte della struttura Innovation. Questo passaggio e l'ingresso di conseguenze in Telecom Italia ha rappresentato il salto di qualità dal punto di vista lavorativo, sia per il lavoro che svolgo, per la qualità e per l'importanza all'interno dell'azienda. Infatti il fatto di lavorare in Innovation è secondo me una grande job opportunity dal punto di vista sia della visibilità all'interno e all'esterno dell'azienda che in prospettiva per le possibilità di carriera che ci possono essere. Questo aspetto mi è stato chiaro già dal primo giorno di lavoro quando una volta arrivato a Trendo allo Skill Lab che è il primo dei joint Open Lab che stanno nascendo, sono tutta una catena che partirà in sinergia con le principali università italiane. Al mio incontro con il nuovo responsabile, mentre mi spiegava quali sono le mansioni che avrei dovuto svolgere, quali sono i temi trattati nel laboratorio, mi rivelò che la settimana successiva ci sarebbe stato un incontro con i dirigenti d'aria della mia funzione, con il ministro del delegato e con il ministro dell'istruzione Profumo. Questo evento è stato per me molto importante, mi ha segnato perché mi ha fatto capire l'importanza del ruolo che andavo a svolgere e quindi è stato per me un motivo di grande motivazione e mi ha spinto a dare il massimo fin da subito, dandomi la cognizione del fatto che con un grande impegno che non deve mai cessare, ci sono sempre delle grandi opportunità di crescere all'interno di questa azienda e di questo mi rendo conto già dopo sei mesi che sono entrato a farne parte, vedo appunto che il mio background culturale si è molto arricchito e quindi penso che possa continuare a crescere nel futuro.